Settembre è un mese di ripartenza, di ripartenza per tante organizzazioni scolastiche, quindi anche per l'Università e quindi anche per l'Adiso. Per noi settembre significa mandare dei messaggi, dei segnali di innovazione su tre piani, sulle menze, sulle residenze e sulle borse di studio. Sulle menze perché stiamo completando i lavori di ristrutturazione e di riqualificazione della mensa di ingegneria e di agraria e del bar di ingegneria. L'inaugurazione che si terrà il prossimo 4 ottobre e che comporterà una struttura radicalmente rinnovata con una qualità del servizio sicuramente superiore. Sempre sulle menze abbiamo accompagnato questa innovazione strutturale con il lancio della prima app digitale dell'Adiso, dove si possono trovare informazioni quotidiane, settimanali, mensili su quelle che sono le caratteristiche dei menu che vengono erogate in ciascuna di queste menze, oltre che le caratteristiche di alcuni piatti in termini di produttori, certificazioni e così via. Sul piano delle residenze, come diceva lei, andiamo veloci nel senso che abbiamo potenziato di oltre 10 volte quella che è la connettività e il wifi delle residenze. Si trattava di un bisogno molto atteso dai nostri studenti presenti nelle residenze, perché come sappiamo avere una connettività veloce significa avere la possibilità di studiare, di scaricare materiali di studio da internet, ma significa anche dialogare con i loro paesi di provenienza a costi decisamente più bassi. E come sapete molti dei nostri studenti sono stranieri e hanno bisogno di riconnettersi con le loro famiglie e con i loro amici. La terza innovazione sono i dati confortanti, direi veramente di cui andiamo orgogliosi, delle domande di borse di studio che sono pervenute sull'ultimo bando. Abbiamo per il secondo anno consecutivo registrato incrementi rilevanti, percentuale quest'anno abbiamo fatto un più 16%, lo scorso anno a settembre 2017 abbiamo fatto circa il 20% di incremento, più 16% sull'anno passato. Quindi come dire, la Disu sta crescendo in termini di servizi erogati agli studenti e questo credo sia un fatto confortante, crescendo come borse di studio, come qualità delle menze e come qualità delle residenze.